Ho trovato il gaccia-gaccia grazie a Eugenio di Paman Ho messo 200 yen da buttare così In Italia ho conosciuto come Super Kid Vediamo chi mi è uscito Vediamo chi mi è uscito Oh no Secondo me è la scimmia che tipo la odiavo Vediamo un po' Vediamo chi c'ho La scimmia pure io la odiavo tipo Era inutile Era inutile non parlavo era muta Se ti esce lui hai vinto Mi sa che mi è uscito tipo Ho la bambola pure La bambolina pure La bambolina era il top Ecco che si sta Aprendo Dovevi sbagliare qualcosa Mamma che si sono scocciati Si Ecco che si è riuscito a aprire Vabbè Ti interrompo ci rivediamo dopo C'è il possantino per aprire qua Se apre ma Niente Vabbè ci vediamo dopo per il Ti ve lo frulla via Vabbè Si apriva così Un minuto e trenta di video per aprire un uovo Che cosa Ma che è qual era E' un pezzo di paman Ma non è tutto il paman Ah è lui però No no era quello verde L'amico Il ciccione Che merda Non potevo uscirti di peggio E non è neanche tutto il ciccione No ma non lo vedi com'è Ma zì Sono i caschi Ma non l'avevi capito Così No voglio veramente Ma guarda i suoi figli Guarda i suoi figli Ma comunque i suoi figli veri Però ti è uscito il ciccione che fa a cagare Adesso non ti ricorda che il verde non è paman Vabbè Ci riproviamo? No 200 yen No come no Non li vuoi tutti? No Come no? No Ma perché no? Non li voglio tutti Vabbè Con la inesperienza di Tommaso Addio